Ascoltare il parere degli altri oppure fare di testa propria. Per mia esperienza di vita conosco due categorie di persone che secondo me sbagliano entrambe. Una categoria di persone sono quelle con una personalità e un'autostima molto ridotta che praticamente si lasciano influenzare da troppe persone sul prendere una decisione sul cosa fare e perdono quella bussola, quel timone che appunto è la propria interiorità nel decidere una cosa. Di contraltare ci sono altre persone che quasi come antitesi hegeliana a questi primi si vantano, io li chiamo i muli questi, muli perché sono dei testoni, si vantano di decidere solamente di testa propria e sono totalmente impermeabili al parere degli altri, a un consiglio. Ecco, qualsiasi persona di buonsenso capisce che entrambe queste due categorie si comportano erroneamente, ma siccome noi, come purtroppo ho già detto in altri video, viviamo ormai in una società estremamente isterica e polarizzata, tutto bianco, nero in cui il buonsenso non alberga quasi più nelle persone, non si capisce quello che secondo me dovrebbe facilmente capire chiunque, ovvero secondo me è importante ascoltare l'opinione delle altre persone, ma vi faccio una semplice metafora. La nostra personalità, allora supponiamo che la nostra personalità e la decisione che deve prendere, il compito che deve fare sia un cocktail, no? Avete presente i cocktail? Benissimo. Che questo cocktail, sapete tutti che un cocktail cosa avrà? 15-20 gradi al massimo di alcolico? Benissimo. In questo cocktail l'acqua, il seltz per essere più fini, sei tu, quindi l'ingrediente principale di questo cocktail devi essere tu, però le opinioni delle altre persone sono gli ingredienti di questo cocktail, quindi che ne so, il martini, che cazzo ne so, il campari, mettici insieme la vodka, mettici insieme gli altri ingredienti, ok? Se tu questo cocktail lo fai completamente senza acqua e ci metti solo alcolici, alcolici, a parte che senza acqua non sarebbe possibile, ma nella metafora non metti te stesso te stessa, verrà una porcheria imbevibile, finirai in coma etilico e non servirà un cazzo, ok? Se tu invece, come fanno i testoni, i muli, ascolti solo te stesso e te stessa e non metti delle parti di quantità delle opinioni degli altri, verrà un bicchieraccio di acqua sporca, avete capito? Ecco, adesso mi è venuta questa metafora qui, potete metterne, fare quella che volete voi, ok? Per cui l'opinione degli altri va presa in determinate quantità, ma va presa, mantenendo poi la bussola della propria interiorità come principale organo decisore. Ma non bisogna né cedere, nel primo caso, come ho detto, le banderuole che si lasciano influenzare da tutti, ma neanche come quei craponi, quei testoni e quelle testone che non ascoltano nessuno e si vantano pure di non ascoltare nessuno. Chiudo qui, video breve, mettete per favore un like, iscrivetevi al canale, le sue commentate, le sue stronzate che vi dico sempre. Ciao!